L'Aurum compie dieci anni, Assessore Diacovo, un traguardo importante, un compleanno importante per questa struttura che si trova nella zona sud di Pescara e per questa ricorrenza avete preparato un ricco programma di eventi. Certamente, perché l'Aurum da posto che sembrava off, cioè ai margini della zona della città, in realtà è diventato il cuore pulsante, il cuore della cultura, di socialità di questa città. Ormai è frequentatissimo, abbiamo solo nella stagione estiva, per la quale ho un programma di tre mesi in cui ogni sera c'è un evento, oltre 10.000 presenze. Insomma, l'Aurum è il cuore di tantissime attività di questa città, è stato un regalo straordinario fattoci dieci anni fa per questa città e lo vogliamo festeggiare insieme al Presidente della Regione, che ne fu artefice dieci anni fa, al Sindaco, in cui sarà una serata, in cui ci saranno anche i concerti jazz, diciamo come componente del Pescara jazz, si sposterà nell'Aurum. Poi ci sarà una proiezione nel film di Erminia Cardone e Andrea Malandra sulla storia di questa struttura e faremo un po' un ragionamento insieme sulle prospettive di questa struttura, su a che punto è oggi e perché è così amata la città e come vogliamo investire per far sì che sia sempre più importante e utile a questa città. L'obiettivo del rilancio dell'Aurum è stata una partita vinta dall'amministrazione comunale? Sicuramente sì. L'Aurum è stato un po' sottoutilizzato in alcuni momenti, ma adesso è attivo a pieno titolo e ogni tipo di linguaggio culturale, ma anche ogni tipo di appuntamento di socialità, di beneficenza, di studio, di scuola, ha avuto luogo all'Aurum. È un punto imprescindibile di questa città, la scommessa vinta e che ormai parte del DNA più bello della nostra comunità.